Un turno con appuntamenti tutti ristretti sul territorio per le due molisane impegnate nel girone F di Serie D che vede domani sul palcoscenico i confronti di una non aggiornata che, complice il passaggio all'ora legale a quella sonale, vedrà il via per le ore 14.30. Per il vasto Girardi, in striscia, sette turni a questa parte, con quattro successi e tre pari ottenuti, la sfida alla vastese sarà una sorta di derby etimologico che avrà l'ulteriore particolarità dello svolgimento nella cornice del Civitelle di Agnone, abbattendo così tutte le peculiarità logistiche per i giallo celesti, che poi, mercoledì, avranno l'appuntamento di Coppa Italia a Cava dei Tirreni sul campo della Cavese. Gli stonici, dopo due sconfitte consecutive, hanno deciso per un cambio di lotta in panchina con l'esonero di Giuseppe Ferazzoni e la chiamata Alessandro Lucarelli. Dalla sua, il trainer degli Altomolisani, Coletti, cercherà di dare ulteriore mordente ai suoi con l'obiettivo di portare ad un saldo positivo la media inglese. In Alto Molise, a dirigere le operazioni, sarà una terna capitanata all'arbitro di Ercolano, Saverio Esposito, con assistenti marchigiani Alessandro Donati di Macerata e Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno. Il Termoli, invece, dopo tre pari in successione, tutti per 1-1, cerca di far sua la sfida in programma tra le mura amiche del Cannarsa contro il football club matese di Piedimonte Matese, affidato ad una vecchia conoscenza dei palcoscenici calcistici molisani come Corrado Urbano, con, inorganico, dei fantasisti del calibro del folletto di San Martino in Pensilis, Vittorio Esposito, e di un Daniele Napoletano, fattore nei tornei di eccellenza regionale. A dirigere le operazioni, in riva all'Adriatico, una terna tutta marchigiana, con arbitro l'ascolano Paolo Grieco ed assistenti il pesarese Alberto Dovidio ed il san benedettese Nicolò Raschiatore. Grazie a tutti.